Ciao, sono Marco e nel video di oggi ti parlerò di che cos'è un plugin per WordPress. Ho deciso di fare questo video per fare un pochettino di chiarezza e per tornare un pochettino agli origini. Quindi se tu sei all'inizio con WordPress e stai iniziando un pochettino a conoscere questo ambiente e ti sei domandato che cosa sono i plugin e come vanno utilizzati, questo è il video che fa per te. Iniziamo subito con spiegare nella maniera più semplice possibile che cos'è quindi un plugin. Come tutti sappiamo e come spesso è stato associato, WordPress nasce come blog, quindi nasce come un content manage system, quindi come un sistema nato per gestire contenuti, per creare contenuti di tipo post, articoli, quindi di tipo blog. Un plugin per definizione è un modulo aggiuntivo che ti consente di andare a aggiungere quindi funzionalità al tuo CMS, al tuo ambiente WordPress. Che cosa significa aggiungere funzionalità? Mettiamo che per esempio tu abbia la necessità di aggiungere una forma di contatto sul tuo sito per essere contattato, per fare in modo che gli utenti che vogliono farti delle domande, che vogliono chiederti queste cose, possono appunto contattarti. Questo tipo di funzionalità non è presente in base WordPress, nella base di WordPress. Per questo quindi si può per esempio ricorrere a un plugin. Ho fatto già anche un video in merito relativo appunto all'aggiunta di un contact form, quindi di un form di contatto, attraverso proprio appunto l'utilizzo di un plugin. Poi, altro esempio ancora più eclatante, e ne ho parlato tantissimo nel mio canale, ti consiglio di andare un po' a vederlo e guardare qua e là un po' di video se appunto stai iniziando a mettere i primi passi, stai facendo i primi passi all'interno di WordPress. Nel momento in cui tu decidi, per esempio, di trasformare il tuo semplice blog in un e-commerce, grazie a plugin è possibile trasformare il tuo WordPress in un vero e proprio e-commerce. Un esempio pratico appunto è WooCommerce, argomento appunto di molti dei miei video, ti consente di realizzare un completo e-commerce per prodotti fisici, prodotti digitali, con membership, con qualunque cosa tu abbia appunto necessità. Quindi questo è appunto un primo, un altro esempio molto molto pratico di come è possibile andare a utilizzare plugin per implementare nuove funzioni. Ecco quindi che cosa è nella maniera pratica un plugin, ecco che cosa serve un plugin. Andiamo un pochettino adesso, un po' più nel profondo, a vedere come si possono gestire i plugin e anche dove si possono trovare. Quindi andremo poi dopo a vedere un attimino come andare appunto a scegliere eccetera, ma per quanto riguarda la gestione ci sono un po' di consigli, un pochettino di nozioni che ci tengo a darti, specie se appunto come già detto stai muovendo i tuoi primi passi, è meglio che tu sappia prima di fare di fare azioni che potrebbero compromettere già dall'inizio il tuo sistema WordPress. Allora prima prima cosa tra tutte è sconsigliato, è davvero sconsigliato andare ad aggiungere, ad installare, ad attivare plug in 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 maniera diciamo in bulk action, in maniera detto in italiano, quindi andare ad attivare tanti plug in tutti quanti insieme. Quindi il consiglio è se hai bisogno di una nuova funzionalità cerca quel plug in, trova il plug in, prova quel plug in, installalo però singolarmente, fai dei test su quel plug in, vedi se il plug in può rispondere alle tue esigenze, rispondere alle tue specifiche e se puoi mantenere quel plug in. Quando hai già una funzionalità implementata sul tuo WordPress, quindi hai già uno o più plug in installati e devi installare un nuovo plug in, appunto quello che devi fare è installarlo e andare a vedere che non si creino incompatibilità, incompatibilità che possono essere date dal tuo tema, incompatibilità che possono essere date da altri plug in, quindi devi appunto testare subito il funzionamento di quel plug in e di altri plug in, quindi assolutamente poi non installare mai plug in in massa, cioè mai plug in insieme, ma uno soltanto alla volta. Poi altro consiglio, e l'ho già detto anche questo in tanti miei video che ho fatto sul canale, per ogni specifica esigenza esiste un plug in, ok? Quindi per tutto c'è un plug in, però quello che devi imparare a fare, e appunto anche qua nel mio canale spesso ne parlo, è che spesso tante funzionalità che WordPress non ha di base sono implementabili con qualche, con un paio magari di righe di codice, quindi con pochissimo lavoro, senza quindi la necessità di andare ad installare per forza un plug in, quindi anche senza conoscenze particolari da parte tua, è possibile con qualche piccolo trick, con qualche piccola porzione di codice, andare appunto a creare delle nuove funzionalità, ad aggiungere delle funzionalità o a estendere delle funzionalità esistenti con pochissimo lavoro e senza la necessità di installare un nuovo plug in che va alla lunga ad appesantire il tuo sistema. Ha parlato infatti anche di ottimizzazione, quindi tutti questi discorsi che ti sto dicendo adesso sono naturalmente rivolti per quanto riguarda l'ottimizzazione, per quanto riguarda le velocità di caricamento di WordPress e quant'altro. Direi che a questo punto possiamo andare a vedere un attimino a video come dove è meglio cercare plug in e quali sono gli aspetti da considerare prima di scaricare o acquistare eventualmente un plug in. Ne andiamo subito. La prima fonte per trovare i tuoi plug in è appunto la repository ufficiale. Come facciamo ad accedere alla repository ufficiale? Abbiamo due metodi. Uno è direttamente dal sito, accedendo direttamente al sito wordpress.org, troverai comunque qua sotto nei link, nella descrizione, e andando nel menu plug in. Quindi all'interno del menu plug in abbiamo tutti quanti i plug in suddivisi per varie macro categorie. Abbiamo circa 57.000, 58.000 ormai plug in presenti sulla repository ufficiale, abbiamo plug in per il back end, i plug in più scaricati, quindi i più importanti, plug in in versione beta e i più popolari. Queste sono appunto le macro categorie. Poi all'interno noi possiamo effettuare le nostre ricerche. Per esempio possiamo scrivere e-commerce e vedere cosa succede e otteniamo appunto delle risultati a seconda della parola chiave per cui noi ricerchiamo e abbiamo i vari plug in che corrispondono a questa ricerca. L'altro modo per accedere alla repository ufficiale ancora più immediato è accedendo direttamente al nostro sito wordpress e andando nella parte di back end ad aggiungere i nuovi plug in. Quindi andiamo nel menu di wordpress, plug in, aggiungi nuovo e quello che troviamo nella dashboard è esattamente la directory ufficiale di wordpress, la stessa che stavamo guardando poco fa. Quindi possiamo appunto abbiamo i segnalati, i popolari, i raccomandati, i preferiti. Questi sono anche qua macro categorie. Poi quello che possiamo fare è da qua dal sito possiamo per esempio andare a scaricare il plug in in formato zip e poi aggiungerlo, ma non è questo il video per farti vedere come installarli, ma questo video vuole farti vedere quali sono le fonti, quindi abbiamo visto appunto la prima che è la repository ufficiale e quello che ti voglio adesso far un pochettino vedere è i criteri che devi utilizzare per poter scegliere quale plug in installare e quale plug in utilizzare. Allora iniziamo subito con dire una cosa. Innanzitutto al di là di questi criteri che io andrò a elencarti, quello che tu devi tenere sempre a mente è che il plug in che stai testando, stai scaricando deve comunque rispondere alle tue esigenze, quindi deve rispondere a quelle che sono le tue specifiche. All'interno di questo insieme dobbiamo anche mettere un pochettino di parametri di valutazione. Allora primo tra tutti, ti sarà già saltato all'occhio, è valutare le review, quindi le votazioni degli utenti che utilizzano il plug in. Come puoi vedere abbiamo 5 stelle e il numero delle review che sono state fatte, quindi per esempio questi due primi plug in hanno sì la stessa valutazione, 4 stelle e mezzo, ma il primo su 3664 review di utenti e il secondo su 128 review degli utenti. Quindi questo parametro diciamo che è da tenere in considerazione. Quindi le review, quindi quante sono le review, cioè quante stelle ha preso questo plug in, ma su quanti voti sono stati fatti. Poi un altro parametro, altri parametri da tenere sotto occhio sono le installazioni attive, cioè questo indice, questo valore qua ci va proprio ad indicare quanti utenti hanno in questo momento installato e attivato questo specifico plug in. Un dato importante perché anche qua se le installazioni attive sono poche o nulle possiamo provare, ma bisogna vedere, bisogna andare a capire come mai. E ultimo ma non ultimo è la versione di WordPress con cui è stato testato. Infatti se noi andiamo all'interno della repository, quello che anche WordPress ci aiuta a fare, vediamo se riesco a farlo vedere in questo video, ecco alcuni plug in hanno compatibile con la tua versione. Significa che hanno appunto la versione testato con la versione che combacia con la versione del mio WordPress. Se così non fosse, quello che puoi trovare è appunto che non è compatibile con la tua versione. Poi se vuoi sei libero di installare lo stesso, ma potrebbero esserci delle incongruenze. Ora volevo cercarne uno che non fosse compatibile con la mia versione, ma non lo sto trovando. Comunque, altra cosa che si può fare è entrare nei dettagli sempre dal back end, oppure entriamo nei dettagli a livello di sito, quindi entriamo dentro al plugin e ti faccio vedere la stessa cosa all'interno della repository. Abbiamo fondamentalmente, cliccare nei dettagli, lo stesso tipo di schermata, quindi come vedi abbiamo le stesse informazioni. Le informazioni che dobbiamo un pochettino tenere sott'occhio, quelle che ci devono saltare subito davanti, sono l'ultimo aggiornamento, perché cosa dobbiamo fare con l'ultimo aggiornamento? Dobbiamo capire se chi, l'autore o l'azienda di questo plugin, sta tenendo al passo con i tempi il plugin. Ho già parlato in altri video anche qua relativamente alla compatibilità a problemi di aggiornamento, non aggiornamento, quindi è bene che un plugin venga aggiornato abbastanza recentemente. Poi naturalmente dipende anche dalla tipologia di plugin. Ci sono plugin che anche se hanno un mese o due di come ultima data di aggiornamento, sono plugin che magari non risentono di particolari variazioni se non le major update di WordPress. Ok? Quindi ora qui stiamo parlando di, ho preso nel dettaglio, un plugin WooCommerce che è molto molto particolare, molto molto grande e che quindi ha necessità di aggiornamenti continui. Poi, ripetiamo, qua abbiamo di nuovo le installazioni attive, è comunque un dato che ci interessa, che versione di WordPress utilizza. Anche qua, se il plugin non è aggiornato, è testato con una versione di WordPress diciamo non recente, sono già dei campanelli d'allarme che ci indicano che magari a questo plugin non viene fatta la corretta manutenzione, il corretto sviluppo e quindi forse è meglio scartarlo. Poi, appunto, anche qui abbiamo le review e anche qua molto importante perché nelle review noi possiamo andare a vedere le review che intanto qua ce le abbiamo divise per tipologia, per stelle, quindi quante persone hanno messo 5 stelle, quante persone hanno messo una e così via. Qua abbiamo un dato importante, la maggior parte degli utenti hanno messo 5 stelle. Comunque possiamo andare a vedere cliccando su ogni link tutte le review di questa, diciamo qui, se clicchiamo sul link 5 stelle vediamo tutte le review di 5 stelle, se clicchiamo su 4 stelle vediamo tutte le review a 4 stelle e quello che possiamo andare a fare, diciamo è un po' una guida per gli acquisti questo video, però è cliccare su la review ad una stella e vedere un attimino cosa potrebbe essere successo agli utenti, quindi andare un pochettino a leggere quali sono i problemi che si sono verificati con gli utenti e anche che cosa ha risposto l'autore del tema, ok? Quindi sono altre informazioni che ci vengono in aiuto. Altro indice abbastanza interessante è il supporto, nel senso che gli utenti possono attraverso qual forum di WordPress aprire dei ticket, dei supporti e l'autore del tema può rispondere, non rispondere, risolvere o non risolvere, quindi anche questo indice degli problemi risolti negli ultimi due mesi ci fa capire un attimino se questo è un plugin vivo oppure se viene un po' abbandonato a se stesso. L'ultima cosa per quanto riguarda la repository è la visione avanzata, cioè andiamo a vedere altri dettagli che ci possono tornare utili per quanto riguarda la scelta di un plugin. Allora qui, va beh, questo dato diciamo non ci interessa più di tanto, abbiamo un dato dove ci riporta tutte le versioni dei plugin, le major naturalmente, update, e ci dice quanti utenti stanno utilizzando la versione attuale. Quindi per esempio l'ultima è la 4.8, il 19,9% degli utenti sta utilizzando questa versione. Andiamo a scendere fino alla maggior parte, il 46% degli utenti che hanno una versione obsoleta perché è precedente alla 4.3 e vengono visualizzati tutti in questo schema. Diciamo che questo è un dato rilevante fino a un certo punto, nel senso che può esserci d'aiuto ma non ci va a dare delle informazioni vere e proprie. Quest'altro dato qui ci indica il download per giorno, quindi quello che possiamo vedere da questi schemi, da questi dati, è se effettivamente il plugin viene utilizzato, viene scaricato parecchio oppure no, se è un plugin che invece nessuno o pochi utilizzano. Com'è il trend, l'andamento delle installazioni attive? Quindi anche questo è un bel indice importante perché ci sta dicendo gli utenti qua stanno continuando a attivarlo, stanno continuando a usarlo o per qualche ragione magari stanno disinstallando, stanno disattivando questo plugin, si è verificato qualcosa che crea delle incompatibilità, anche questo indice delle installazioni attive è un indice molto interessante. E qui abbiamo tutta la storia dei download, cioè i download totali, i download dell'ultima settimana, quelli di ieri e quelli di oggi. Quindi più o meno abbiamo di nuovo un po' un dato di come è l'andamento di questo plugin. E questo diciamo è quello che sono i dati che ci servono per appunto poter scegliere un plugin sulla repository. L'altro fonte invece di, diciamo, di poter scaricare o acquistare plugin è Codecanyon. Un altro, questo marketplace, uno dei, diciamo, il più famoso è la parte della Mbato e la parte Codecanyon riguarda appunto WordPress, ha una parte relativa a WordPress. Lo troviamo subito infatti qua nel menu dove abbiamo appunto i plugin, tutta la lista dei plugin presente su appunto Codecanyon. Abbiamo plugin in, diciamo, tutti a pagamento, qua sono tutti a pagamento, mentre invece sulla repository i plugin devono per, diciamo, obbligo essere gratuiti. Possono avere funzionalità a pagamento da acquistarsi a parte, questa è la scelta dell'autore, ma i plugin presenti sulla repository devono essere completi e funzionanti in maniera gratuita. Torniamo su Codecanyon, qua i dati che possiamo andare a vedere, vediamo un attimino, cerchiamo un pochettino anche qua e-commerce e andiamo a vedere all'interno di un plugin. Allora, innanzitutto anche qua abbiamo delle, diciamo, delle informazioni che ci possono venire comode. Anche qui abbiamo i rating, quindi quante stelle ha ricevuto questo plugin, vabbè, il prezzo che è un'altra variante che decideremo noi se ci sta bene o no questo prezzo, ci sono anche delle politiche di rimborso, quindi vatti a leggere anche quelle prima di acquistare su Codecanyon, e il numero di vendite, quindi quante vendite sono state effettuate di questo plugin e quando è stato aggiornato l'ultima volta. Quindi già qui abbiamo un po' di informazioni interessanti per ogni tipo di plugin. Quindi per ogni plugin abbiamo appunto la possibilità di vedere subito quante vendite sono state fatte e l'ultimo aggiornamento. come vedete, per esempio, questo plugin non viene più aggiornato da tempo, da quasi un anno oramai rispetto a quando sto facendo questo video naturalmente. Andiamo all'interno di un plugin e vediamo se ci sono altre informazioni che ci possono venire utili. Allora, qui appunto abbiamo di nuovo ripetute i rating, anche qua abbiamo la possibilità di andare a leggere i rating, vedere le vendite, quindi qua possiamo leggere appunto tutti i rating, che cosa hanno scritto gli utenti e cosa andava o cosa non andava e possiamo anche andare a vedere i commenti che sono stati fatti, quindi sono magari delle pre-sale question, se le persone chiedono, oppure se l'utente che ha chiesto ha una a questa bandierina che ha scritto purchase è ovviamente un utente che ha acquistato e che sta facendo delle domande. Abbiamo anche la tab di supporto, quindi possiamo anche vedere ecco come che dove poi vanno inseriti nei commenti una volta che il supporto è stato richiesto. Quello che possiamo vedere sia qua sia per la repository è anche vedere come l'autore del tema del plugin risponde ai commenti se effettivamente dà supporto, in che modo dà supporto, se gli utenti sono soddisfatti o no, anche questo può essere un indice per noi per aiutarci a scegliere oppure no. Tornando ai dettagli del plugin, se scendiamo abbiamo ovviamente tutta la descrizione, ma quello che interessa a noi appunto sono queste altre informazioni, come riportato sopra, la data dell'ultimo aggiornamento, qua abbiamo un altro dato abbastanza importante che è la data di quando è stato creato il plugin, quindi possiamo anche un pochettino vedere qual è la vita di questo plugin e se è un plugin che è appena arrivato, se è un plugin che ha già una sua storia e quant'altro. E poi qui abbiamo delle altre informazioni aggiuntive, quindi per esempio se il plugin è ottimizzato per Gutenberg, se ha alta risoluzione, se con quali browser è compatibile o quale no, ci sono plugin che aggiungono funzionalità grafiche, quindi magari hanno più informazioni relative al browser. Che tipo di file sono presenti all'interno del plugin, con quali versioni di Wordpress viene testato e un po' di tag che servono naturalmente per il motore di ricerca. Ci sono altri plugin che hanno naturalmente la compilazione di questa colonnina che siamo andati a vedere è data dall'autore, quindi magari ci sono altri plugin che hanno più informazioni o meno informazioni. Andiamone un pochettino a vedere qualcun altro e vediamo un pochettino cosa ci dà come informazioni. Quindi anche qua abbiamo le compatibilità, anche qua abbiamo le stesse tipo di informazioni, qua ci dice di nuovo i file che sono inclusi e abbiamo anche appunto la possibilità di vedere queste altre informazioni aggiuntive. Un'ultima cosa, vediamo se è presente all'interno di questo plugin oppure no, potremmo avere, andiamo a vedere il primo, potremmo avere anche a seconda sempre a discrezione da parte dell'autore del plugin, anche lo storico degli aggiornamenti. Quindi alcuni utenti, eccolo qua il changelog, alcuni autori decidono di mettere all'interno del loro plugin tutta la storia, tutto il changelog degli aggiornamenti e che cosa è stato risolto e che cosa non è stato risolto. Altre informazioni aggiuntive importanti che noi possono venire comode per capire appunto la, sempre la qualità un po' del plugin e se il plugin può fare al caso nostro. Fatte tutte queste considerazioni, dobbiamo sempre tenere presente che, come ho detto all'inizio, il plugin deve venire incontro a quelle che sono le nostre specifiche. Diversamente non potremo utilizzare questo plugin. Bene, spero che questo video sia stato per te d'aiuto, che tu abbia capito, diciamo, tutte le parti che volevo trasmetterti, tutti i concetti che volevo trasmetterti per quanto riguarda appunto la scelta di un plugin e che cos'è un plugin, ne abbiamo anche visti un pochettino. Se c'è comunque qualcosa che ancora non ti è chiaro, hai qualche dubbio, io ti invito a scrivermelo qua sotto nei commenti di modo che ne possiamo parlare o possiamo prendere spunti per fare altri nuovi video. E in ogni caso, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!